Renato Ricci, patron del Trofeo Matteotti, allora partiamo dalla data della prossima edizione, 17 luglio. Sì, il Trofeo Matteotti, sì, ci hanno dato la data del 17 luglio, adesso vediamo un po' se si può organizzare nel migliore dei modi. Comunque voglio anche ringraziare l'amico Gabriele Marchesani perché innanzitutto mi ha dato la possibilità di vedere una bella location a Chieti della Civitella. Io dico comunque che se ci sono due società professionistiche in Abruzzo e sappiamo i costi che ci possono essere, sappiamo anche che molto è dovuto al fatto che comunque c'è stato per tantissimi anni una manifestazione che si chiama Trofeo Matteotti. È chiaro che queste cose escono quando c'è una voglia e una partecipazione della gente come avviene anche nel calcio, che abbiamo avuto anche due campioni del mondo. Quindi è chiaro che la passione è questa, il ciclismo porta veramente, si vede, perché è una passione modesta però con molto affetto perché vediamo la partecipazione di tanti ragazzi che corrono, che vogliono fare ciclismo. Io penso che il ciclismo ritornerà splendente come lo era una volta. Ci vuole un po' di pazienza, bisogna crederci e vedo che tanta gente ci crede.